Allora si conclude questa tre giorni che ha avuto momenti di reunion, momenti di riflessione, temi importanti e progettualità. Possiamo fare un bilancio? È stata una gran bella festa dove l'amicizia è stata protagonista in tutti i sensi. Abbiamo costruito un percorso per una comunità che si è ritrovata attorno a un'antica storia di un partito valorizzando l'idea della democrazia cristiana, cogliendone i significati più importanti a cominciare dai valori che vuole rappresentare. Abbiamo parlato e riflettuto insieme con tutti i partiti perché quando si è amici si è a prescindere dalle valutazioni personali dei partiti e ringrazio tutti i dirigenti di partiti che sono venuti. Abbiamo parlato di pace, al culmine di questa richiesta di pace abbiamo invitato la famiglia Arafatti in un momento drammatico come quello che è successo stanotte che sono venuti a urlare la pace. Abbiamo parlato di legalità, di lavoro, di attività produttive, di sanità, di imprese, di agricoltura. È stata una festa che insieme all'essere comunità, gioia e divertimento è stato anche un percorso di programma e politico che porteremo nelle sedi istituzionali come esperienze. Abbiamo certamente una grande soddisfazione di aver rimesso insieme tanta gente e di aver dato spazio alla possibilità di vivere, di stare insieme e di testimoniare la capacità che abbiamo di essere protagonisti nella partecipazione, non nella gestione del potere. Questa è la cosa più bella e questa è la festa dell'amicizia. Noi abbiamo assistito al dibattito nel corso del quale ci sono state sicuramente tante riflessioni, tante proposte. Però una voce unonime è stata quella che ha parlato dell'uomo, Totò Cuffaro, al quale va ascritto comunque questo grande successo, il coraggio di riproporre questa nuova formazione politica. Per chi come me ha commesso tanti errori, dei quali faccio ammenda e responsabilmente cerco ogni giorno di migliorarmi e dare un messaggio perché queste mie responsabilità nel ricordo di esse si possa dare un consiglio a quelli che non li debbano fare. E' chiaro che il protagonista di questa festa della democrazia cristiana è l'uomo, ma non l'uomo Totò Cuffaro, è l'uomo, è la sua coscienza, è la sua passione, è la sua voglia di essere protagonista, è la sua voglia di partecipare, la sua voglia di amare e di donarsi. La sua voglia di essere costruttore di messaggi, di pace, di legalità e soprattutto l'uomo che raccoglie il testimone di una storia e che la vuole donare e dare ai propri figli perché la porti in avanti. In questo contesto forse l'uomo Totò Cuffaro può avere il merito di aver colto questo significato e di averlo insieme a tutti gli altri portato avanti. Nessuno avrebbe potuto fare quello che ho fatto io se non l'avessimo fatto tutti insieme. E io sono grato a quelli che mi hanno dato la possibilità e ci hanno creduto. Oggi la democrazia cristiana è una realtà, noi siamo contenti e speriamo che possa servire a far crescere nello sviluppo questa terra e soprattutto a poter donare, come ho detto l'ultimo video, una possibilità ai nostri figli che rimangono in questa terra per studiare e per vivere. Infatti proprio c'è una grande attenzione, forse in quella nuova democrazia cristiana c'è questa attenzione verso i giovani, questo disegno di legge in questa direzione. La democrazia cristiana nuova è una democrazia cristiana cambiata, come diceva il video, cambiata perché avendo maturato quello che abbiamo dovuto pagare per gli errori commessi si cerca di non rinunciare alle ragioni che abbiamo. In questo contesto cominciamo dalla famiglia, nella difesa della famiglia, nella sua unità familiare, nella sua scelta di essere protagonista attiva e non passiva della società e delle istituzioni. Parliamo dei nostri giovani, dei nostri figli, ognuno di noi ha un proprio figlio che vorrebbe che rimanesse qui dopo aver studiato perché ci possa far diventare nonni, io lo sono diventato fra poco. Ecco, io penso che i valori di cui parliamo sono questi e questa è la vita per la quale abbiamo il dovere di continuare a combattere, a sperare, come Nemmi c'è il protagonista dei ragazzi alla via palle, sapendo che ai nostri figli noi dobbiamo lasciare la possibilità che anche loro abbiano di coltivare la speranza, perché la speranza è una cosa buona e le cose buone anche se alla fine vingono sempre. Ribera, teatro comunque di un grande successo, questa nuova democrazia cristiana rivolta ai giovani, aperta anche politicamente alle riflessioni degli altri in direzione della creazione di qualcosa di grande che sia al centro. Siamo un partito aperto e che non è solo un'enunciazione, lo abbiamo dimostrato, abbiamo voluto celebrare la nostra festa e abbiamo voluto condividere la nostra festa con le persone che non la pensano come noi o che la pensano in maniera diametralmente opposta a come la pensiamo noi, uno su tutti. Abbiamo affrontato il tema della pace, abbiamo invitato il console russo e quanto di più impopolare penso ci possa essere in questo momento storico. Abbiamo affrontato i temi della politica e lo abbiamo fatto con gli amici del PD che sicuramente non la pensano come noi. Abbiamo affrontato i temi imprenditoriali e ci siamo voluti confrontare con chi rappresenta una voce forte e che ci criticano, che è il mondo delle organizzazioni di categoria. E' una festa di popolo che abbiamo voluto iniziare e riniziare dopo 30 anni. Ci eravamo lasciati a Pesaro nel 1993 e abbiamo ripreso la festa dell'amicizia nella mia città, a Ribera. Io sono di questo onoratissimo di aver ripreso una tradizione storica della democrazia che si hanno proprio nella mia città. Sono certo che questa sarà semplicemente la prima riedizione di una lunga serie affinché la democrazia cristiana si possa confermare un partito plurale, soprattutto un partito come ama dire, uffaro, donna e soprattutto giovane. Una eredità, quella che le arriva certamente non facile, in una Sicilia che è cambiata e che comunque ha bisogno sicuramente di recuperare questo vostro progetto. Quello sì, ma intanto la prima parte è quella più difficile, nel senso è l'unico caso al mondo in cui l'allievo non potrà mai superare il maestro, perché il maestro vola così in altro che sicuramente entra nell'immo degli statisti politici. Lo dimostra questa ripartenza dopo tutte le difficoltà dell'uomo che è riuscito comunque a rilanciare la democrazia cristiana, a rilanciare i valori e soprattutto a trarre un mondo che era un pochettino più sfidociato, quello dei giovani. Vedere qui tutti questi giovani, soprattutto questi colori, mi faccia dire, puliti, fa sperare tantissimo nel cambiamento anche della Sicilia. Voi attualmente state comunque amministrando una Sicilia che è in forte sofferenza? Basta andare in giro per capire che la sofferenza è notevole. Lascia sempre perplessi il fatto che non vengono utilizzati tutti i fondi comunitari, che sono veramente l'unica possibilità di una ripresa e di una speranza, perché soprattutto i nostri giovani possono vivere al meglio il loro futuro. Quindi penso che un lavoro in quella direzione va attenzionato e va stressato sempre di più, per l'utilizzo massimo di tutte le risorse che arrivano in Sicilia. Poco fa Tocufaro ha detto che gli assessorati che ci hanno lasciato poi si sono accorti che erano importanti. Di fatto in un primo momento sono rimasti riduti, invece è stata l'abilità dell'uomo e del politico a farne delle punte di diamante. Ma intanto gli assessorati sono rappresentati da due figure, che sono l'assessore Albano e l'assessore Messina, che sono due persone per stile, per cultura, per professionalità, per le skills che hanno professionali, sono sicuramente un'alta rappresentanza per questo governo. E poi sono degli strumenti importanti. Sicuramente l'assessorato alla famiglia e al lavoro, lasci dire, per una Sicilia che sicuramente soffre economicamente, sono due assessorati che ci possono dare qualche soddisfazione in termini di risposte al bisogno. In Sicilia è comunque facile risvegliare questo radicamento del partito. E invece fuori dalla Sicilia? Ma certamente in Sicilia la spinta iniziale la dà sicuramente uno che si chiama Tocufaro e che quindi si riprende la scena sui valori e sulla capacità. Perché non dimentichiamo che il suo fare da presidente è stato molto forte, molto incisivo ed efficace. Tant'è che oggi, a vent'anni di distanza, si riparla di ponte, si riparla di terramoralizzatori. Il che significa che la sua politica sicuramente andava nella direzione giusta. Ovviamente andando in Italia, la complessità del quadro politico, che sicuramente comunque sta cambiando, ci porta a sperare di far passare i nostri valori anche oltre lo stretto.